Shaila! Pais! Anche tu in vacanza qui al mare? Sì, ma in casa ho finito tutto e stavo impazzendo per fortuna che acqua e sapone in tutta Italia Così, anche quando sei in vacanza trovi un negozio vicino a te! E allora shoppi! Scopri le maschere shawl per piedi pedimasca a soli 3,90€ solo 20 minuti per avere pelle idratata per piedi morbidi e lisci al tatto Prova anche la crema antisecchezza e la crema rigenerante pelle secca a 3,90€ ciascuna Shawl! 100 anni di esperienza Stare bene prende piede I negozi acqua e sapone vi aspettano in tutta Italia anche d'estate per un tuffo nel risparmio E da oggi con le nuove aperture anche a Bernalda Benevento Grugliasco Genova e Bari Amica ti rendi conto? Acqua e sapone ci ha salvato la vacanza e con queste offerte ci salva anche il portafoglio Acqua e sapone Oltre la convenienza A presto A presto A presto A presto